12esima edizione dell'International Rail Summit a Roma, evento internazionale sul mondo ferroviario. Cosa possiamo imparare da contesti di questo tipo? Sicuramente è una vista importante di tutto il settore ferroviario, una vista ormai europea, quindi è molto importante il confronto fra gli operatori del settore. Dobbiamo imparare a fare fronte comune su alcune tematiche tecniche per le quali noi, gestori di infrastruttura, siamo sicuramente più titolati a dire la nostra. Penso anche che impariamo a vedere che l'Italia fa bene, ma spesso non lo dice. E se le chiedessi cosa possiamo insegnare? Noi possiamo insegnare moltissimo perché siamo il paese più avanzato dal punto di vista della digitalizzazione dei sistemi ferroviari, quindi noi possiamo raccontare un'esperienza rispetto alla quale veramente abbiamo da dire. Possiamo sicuramente portare la nostra esperienza, il nostro know-how, i nostri progetti di innovazione, la nostra volontà nel settore per esempio della logistica. E soprattutto l'abilità di fare gruppo, non solo tra italiani, ma con tutti gli altri, e gli italiani possono insegnare tantissimo. Grazie.